Ieri in questo immondezzaio c'è una colonia qui, ci hanno buttato tutta la casetta, oggi ne ho messa una nuova. I balordi vengono e fanno questi rispetti che non hanno niente da fare e devono lasciare i gatti giugioni, così si sentono realizzati a prendersela con i gatti. Giustamente ieri siamo arrivati e abbiamo trovato che non c'erano più le due casette, quella che riparava l'acqua e quella per il cibo, e non c'erano più ciotole, non c'era più nulla, e oggi è attrezzata. Questo schifo di città, non ha tutti questi rifiuti, queste schifezze, il proprietario di questo giardino è d'accordo con noi, e ci lascia un altro cibo che rispetta i gatti, qua ce ne hanno abbandonato tre in un'altra piatta d'uccelli, qualche balordio in questa città di Marda viene e ci porta tutti.